Un vasto incendio ha avvolto il tetto di un'abitazione nel pomeriggio di lunedì 31 gennaio intorno alle 18, situata in via Umberto I a Prosa Canavese. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco di Vrea, Castellamonte Cornier e Volpiano, per domare e spegnere le fiamme. I residenti sono stati fatti uscire dall'abitazione per sicurezza. Nessuno è rimasto ferito o intossicato. Le operazioni sono state rese complicate dal vento forte. Secondo una prima ricostruzione, pare che le fiamme si siano sviluppate dalla canna fumaria per poi intaccare il tetto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.